Vediamo in questo video 5 messaggi truccati per far innamorare qualsiasi uomo di te. In questo video voglio spiegarti quali sono 5 messaggi truccati per far innamorare qualsiasi uomo di te. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento base per dare un sostegno al canale e l'abbonamento seminari online per partecipare ai miei seminari online che faccio messe in mente. Adesso veniamo a 5 messaggi truccati per far innamorare un uomo di te. Allora, se vuoi far innamorare un uomo di te, l'hai conosciuto, inizia a messaggiare, ci sono dei messaggi trucco, diciamo così, che lo faranno innamorare, tenderanno a farlo coinvolgere. Sempre di più. Allora, il primo messaggio, o la prima tipologia di messaggi, è quella della FRIZON! Cioè, frenzonalo. Manda messaggi tipo, ah, mi fa piacere parlare con te e ti vedo proprio come un caro amico. Mi piace la nostra amicizia pura, senza nessun secondo fine con te. Insomma, lo frenzoni subito. Questo, se lo fai da secco, da subito, beh, nel maschio genererà subito una sfida, le lancia una sfida. automaticamente proverà attrazione per te, automaticamente ti porrai come una disponibile, ma come amica. questo è fantastico come strategia, perché tenderà proprio a coinvolgerlo, tenderà proprio a farli innamorare, a lanciare una sfida, insomma. e lui cercherà di fare qualcosa. E tu, pilotando questo potenziale che hai acquisito, riuscirai a trattenerlo. La seconda, la seconda cosa è farli intendere che lo vivi un po' come, diciamo, una ruota di scorta. Cioè, dirgli, guarda, scusa ti iscrivo poco perché, sai, ho pochissimo tempo, ma quando riesco ti iscrivo, anche ho un sacco di cose da fare, un sacco di impegni, però ogni tanto mi fa piacere rimanere in contatto con te. Ecco, questo è un altro messaggio che gli va subito a dedicare, diciamo, lo fa subito sentire, da questo punto di vista, poco, diciamo, interessato anche, no, da questo punto di vista. Quindi questo è anche importante farlo. Il terzo tipo di messaggio è, devi, tra virgolette, diciamo, mandare dei messaggi che vadano a stuzzicarlo visivamente. Quindi, dopo che l'hai trattato d'amico e hai detto che non hai tempo, ogni tanto gli mandi un messaggio dove ci deve essere una foto di un tuo particolare. Ad esempio, gli chiedi un consiglio, mandi una foto della caviglia col tacca spillo e gli dici, ma ho comprato queste scarpe, che ne pensi, ti piacciono? Oppure, magari, sono in un negozio, ti piacciono queste scarpe, che dici, le compro? L'importante, puoi anche fare un set, l'importante, oppure un vestito, qualche particolare, insomma, va stimolato visivamente, sembra un po' un eye contact, diciamo, però questo serve perché prima l'hai castrato, diciamo così, trattandolo d'amico, poi vai a stimolarlo un pochettino e vedi intanto dove si aggancia di più, qual è il suo feticismo, il piede, la gamba, la calza, che ne so, il seno, le orecchie, non lo so, qualcosa, anche le orecchie, puoi far vedere gli orecchini. Quindi ogni tanto ci va questo stimolo e vedi come si aggancia, ovviamente. Il quarto tipo di messaggio truccato, diciamo, che tu puoi usare è l'ironia, cioè l'ironia prenderlo un po' in giro, prenderlo un po' in giro con dei diminutivi che non è che sono dispregiattivi, però, diciamo, vanno un po' a svilire la sua, come dire, il suo orgoglio maschile, cioè chiamalo piccolino, se si chiama, che ne so, Giovanni, chiamalo Giovannino, un po' trattalo come al diminutivo, insomma, il piccolino, fai, come dire, manifestare il concetto di piccolo, questo è utile. E poi la quinta cosa anche, vedi se lui ti scrive, fatti un po' desiderare nelle risposte. Magari quando ti invita a qualche parte, non gli rispondi, gli rispondi all'ultimo, insomma, poi scusandoti a livello logico, poi ti dici scusa, non sono riuscita, così, però il farti desiderare è un altro modo molto, molto importante per, diciamo, un messaggio truccato per sedurre qualsiasi uomo, insomma. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, e abbonandoti potrai scegliere, diciamo, abbonamenti base per lezioni mirate e l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!